Le voci finora diffuse sull'assemblea di ieri sono indiscrezioni prive di fondamento, il movimento 5 stelle triestino è unito. Così il comunicato dei pentastellati nostrani, vale a dire Quando sei in navigazione scoppia la burrasca, rassicura tutti via radio che in golfo splende il sole. Logica conseguenza, a casa o a Roma, a seconda del caso, i familiari non si preoccupano, ma il rischio di naufragare resta esattamente lo stesso. Le indiscrezioni di stamani infatti riferivano di 31 voti su 37, contrari all'appoggio di Russo al ballottaggio, ma restano tali ovviamente. Le stesse fonti maligne tinteggiavano un quadro di scontro apertosi dopo le dichiarazioni del ministro dell'agricoltura, il triestino Stefano Patuanelli, nel corso della maratona elettorale di Telequattro. Posto che gli elettori non sono dei pacchi postali che si spostano, io se andrò a votare al ballottaggio non avrò grandi dubbi sulla mia indicazione di voto personale. Cioè Francesco Russo? Decisamente. Dunque compatti su Russo? Vista anche la posizione del leader nazionale Conte apertamente a braccetto con il centro-sinistra? A Trieste no. Dunque la seconda parte del comunicato che smentisce la frattura. Il Movimento 5 Stelle di Trieste si è riunito ieri in assemblea e ha deciso che, pur criticando fermamente l'operato a tratti arrogante e antidemocratico di questa giunta, non darà indicazioni di voto ai propri elettori in vista del prossimo ballottaggio. Vuole così riconfermare la propria coerenza e ribadire di essere l'alternativa concreta alla vecchia politica, insiste la candidata a sindaco Alessandra Richetti. Ho sottolineato più volte l'importanza della coerenza, che forse ad altri è mancata e invito comunque ognuno di voi ad andare a votare, anche se è una scelta che non vi appassiona. Il voto è un diritto dovere del cittadino. Ricordiamo che in caso di vittoria dell'attuale sindaco di piazza, la Richetti prende posto in consiglio comunale. Se vince invece Russo, i 5 Stelle non avranno un loro rappresentante nel parlamentino di Piazza Unità.